Ciao a tutti, bentornati al Raccontalibri. Io sono Federica e oggi vi leggerò uno dei viaggi di Giovannino Perdigiorno. Gli uomini di carta Giovannino Perdigiorno, viaggiando sempre in quarta, capitò nel paese degli uomini di carta. C'erano gli uomini a righe e gli uomini a quadretti, perché li avevano fatti con la carta dei quadernetti. Il più forte del paese era un uomo di cartone e portava una medaglia con su scritto campione. Poi c'era una ragazza di carta velina, leggera come una piuma, faceva la ballerina. Le case erano piccole, di carta colorata, e avevano per tetto una cartolina illustrata. Sospirò Giovannino, la carta costa poco. Dare una casa a tutti, da queste parti, è un gioco. Spero che la storia vi sia piaciuta e alla prossima con un'altra lettura. Ciao!